Vendeva online telefoni cellulari, ma dopo aver incassato il denaro consegnava bottigliette d'acqua. È così scattata la denuncia per un 41enne di Catanzaro, che dovrà adesso rispondere di decine di truffe, circa una cinquantina, quelle accertate, tutte avvenute tra la Toscana e l'Emilia Romagna. Il truffatore aveva infatti studiato un sistema ben collaudato. Prima metteva in vendita online smartphone di ultima generazione ad un prezzo interessante, circa 550 euro. Si faceva sempre pagare in contrassegno, quindi, mascherato da falso corriere, suonava direttamente lui la porta delle ignare vittime per consegnare il pacco, in questo caso nel vero senso della parola. Dopo aver ricevuto la somma di denaro, quindi si allontanava velocemente. Gli acquirenti si rendevano conto della truffa solamente una volta aperto il pacco ben sigillato, quando però ormai del truffatore non c'era più traccia. Un sistema dunque questo che gli permetteva di non essere scoperto perché era lui stesso che faceva firmare il contrassegno di una ditta che poi, se scoperto, non esisteva. Le indagini della polizia postale di Arezzo e Grosseto, partite proprio dalle segnalazioni delle vittime, hanno consentito di individuare l'uomo. I poliziotti per incastrarlo hanno organizzato una trappola, hanno fatto un ordine sul sito online creato dal truffatore e hanno dato come indirizzo di consegna un'abitazione di follonica. Quando l'uomo è arrivato e ha intascato il denaro è scattato il blitz. Gli uomini della polposta lo hanno bloccato e scoperto il raggiro. Nel furgone utilizzato per i trasporti c'era un vero e proprio ufficio mobile che il truffatore utilizzava per spostarsi ovunque. La successiva perquisizione ha consentito anche di trovare altri pacchi con bottigliette d'acqua e circa 2000 etichette di consegna che sarebbero state fatte nei giorni successivi.